Non cercare di fermarmi, Shepard. Devo farlo. Ho già attivato il progetto. Possiamo ancora andarcene da qui. Non c'è via di fuga. Non c'è redenzione per ciò che hai commesso. Morirò senza aver conosciuto la grazia dei razziatori e tu verrai con me. Dannazione! Shepard è in trappola. Tenetela lì dentro. Protocolli di sicurezza disinseriti. Temperatura del nucleo in aumento. No! 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 Come posso stabilizzare il nucleo? I protocolli di sicurezza automatici sono disattivati. Per stabilizzare il nucleo, inserire il perno di raffreddamento A da questa postazione. Inserire il perno di raffreddamento B dalla postazione B. In questo modo si stabilizzerà il nucleo. Il perno di raffreddamento A inserito. Procedura di raffreddamento avviata. Mi serve più tempo. Intervenita. Rilascio di plasma annullato. Rilascio di plasma in corso. Shepard è nell'aria di montezione. Forza! fai un sacco! Fai un sacco! Pipi di riparare il nucleo. Bistrhe? Semperare il nucleo. Bistrhe? Bistrhe? Peppi di ricardo. Grazie. Grazie. Lo faccio! Subito! Blocco disinfrezza disinserito. Grazie. 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 Perno di raffreddamento B inserito. Fusione del reattore sfuggiurato. Temperatura in calma. È inutile Shepard. Posso ancora sovraccaricare i motori. Prova a fermarmi. Si allontani dal reattore. Hai rovinato tutto. Non sento più le voci. Si volti. Ora. E li hai portati via. Non potrò assistere all'arrivo dei razziatori. Tu avresti dovuto continuare a dormire. Tutto ciò non doveva accadere. Kenson, non lo faccia. Possiamo ancora fuggire da quest'asteroide. No, non possiamo. Collisione imminente. 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 Joker, qui Shepard. Venite a prendermi, subito. Sistema di comunicazione danneggiata. Diavolo! Protocolli di evacuazione in corso. Il personale alle navette di salvataggio. Dove trovo una navetta di salvataggio? Prendere l'ascensore fino all'accesso esterno. Poi procedere fino alla torre di comunicazione. Navette ancora disponibili presso la zona d'atterraggio della torre. Devo raggiungere quella torre e salire su una navetta. Non ho alternativa. Deve essere utile. Attenzione! Collisione con il portale Alfa-Eminen. Procedere all'evacuazione. Compensazione e pressione nel compartimento. Attenzione! C- Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Portaci lontano da qui, Joker! Grazie a tutti! 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 Comandante!